Buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento con la voce delle istituzioni, ospite in studio il sindaco di Cencennighi a Gordino, Mauroso Pezza, che saluto e che ringrazio per il suo intervento. Abbiamo molti argomenti da trattare, visto che torniamo dopo in molti lavori partiti per cercare di rimediare i danni di Vaia, partiamo ancora con questo argomento anche perché gli investimenti sono molti e si sa che Cencennighi a Gordino è un nodo idraulico cosiddetto e quindi con tutte le tensioni e le difficoltà di gestire le grandi piene e sappiamo che Vaia ha avuto queste caratteristiche. Io qua leggo di un primo intervento da 1 milione e 300 mila euro, ma poca cosa rispetto a quello che si deve fare. Sì, questa è la prima normalità dei finanziamenti di Vaia, il milione e 3 sono l'importo che è stato assegnato al comune di Cencennighi per vari tipi di lavorazioni, 400 mila euro sono stati erogati per la sistemazione di frane, abbiamo frane a Marting, a Pradimezzo, nella zona di Morbiac e su Achenet, poi 500 mila euro sono stati stanziati per le strade silvopastorali da mettere a posto per poter recuperare gli schianti boschivi, un altro finanziamento è per la strada silvopastorale di Morbiac e insomma alla fine sono tanti appalti che hanno un importo complessivo di 1 milione e 300 mila euro e questi sono i soldi che sono stati assegnati direttamente al comune come soggetto attuatore per questi lavori. Ma voi avete fatto una stima di quanti soldi serviranno per mettere a posto tutto anche se è impossibile? Noi a suo tempo avevamo stimato 20 milioni di euro, Cencennighi è un nodo idraulico ma anche viabile e abbiamo danni anche sulla viabilità. La regione dal primo momento dopo Vaia ad oggi ha già speso sul territorio di Cencennighi 4-5 milioni in questo periodo. Adesso con settembre tutti abbiamo chiuso gli appalti sia la regione che i comuni della prima annualità e entro ottobre dovremo fare la lista della spesa per l'annualità prossima perché il finanziamento che è stato erogato dallo Stato copre tre anni, quindi è un miliardo complessivo di euro per il Veneto suddiviso in tre annualità. Questi 4-5 milioni che sono stati spesi direttamente dalla regione riguardano la viabilità in modo particolare o solo la viabilità? No, riguardano più che altro l'aspetto idrogeologico, i rischi di interventi sul torrente, però molte volte è difesa della viabilità, quindi abbiamo visto le immagini del ponte del Ghirlo quei giorni. Ricordiamo questa immagine, il ponte del Ghirlo è quello in entrata che fa una curva secca e la strada sotto era praticamente tutta mangiata. Sì, è stato fatto un lavoro nell'immediato e in questi giorni hanno concluso i lavori di consolidamento della fondazione del piede dell'Arcino. Però lì c'era anche l'idea di fare un nuovo ponte. Sì, nella lista che abbiamo fatto fin dall'inizio abbiamo recuperato un vecchio progetto preliminare che era stato fatto a suo tempo per la sostituzione del ponte del Ghirlo, per modificare un po' questa curva stretta di cui parlava e sistemare l'accesso per la strada che porta alla Luxottica con una rotonda, la fermata dalle Corriere, insomma un progetto impegnativo da 3 milioni e mezzo. Il ponte del Ghirlo è un ponte storico? Eh sì, eh sì. Infatti nel, e pensa alla sorrintendenza cosa potrà dire, nella progettazione preliminare è stato previsto di porre il nuovo ponte al di sopra del vecchio, cambiando le quote, quindi salvando la struttura del vecchio ponte. È un lavoro impegnativo, non riesco a immaginarmi come si possa metterlo sopra perché comunque sarebbe un ostacolo al panorama, perché poi bisogna tener conto di tutto e di più. Però, vabbè, ce la farete. Vedremo, vedremo. Per quanto riguarda gli schianti, voi avete ampi aree, boscate, sopra la vostra testa ci sta il Pape, dall'altra parte le palle di San Lucano, da quest'altra parte avete il Civetta e lì sono proprio pendii che servono molto velocemente e molto boscati. Schianti? La stima? Ma la stima era di 50 mila metri cubi e purtroppo in buona parte in zone impervie. Quindi irrecuperabili? Molte zone non potranno essere raggiunte. Stiamo lavorando su quelle raggiungibili e al momento abbiamo appaltato 7 mila metri cubi di legname con un incasso per il comune di circa 150 mila euro, la zona di Morbiacca e la zona sotto Campedel. Adesso procederemo all'appalto di Baldo, essendo che la strada che era andata distrutta adesso è in appalto. Allora Morbiacca è all'inizio del comune. Sì, dove c'è il distributore. Sì, è l'entrata praticamente nel comune. Campedel? Campedel è dove c'è la Malga che si va a sua Cimapappe, sopra Martimbo, Schioit ed è una zona alta già servita da una strada che andrà messa a posto, la zona diciamo più ampia di schianti boschivi. Ok, io qui vedo un'altra problematica che è quella dell'acquedotto. Allora cerco di rendere l'immagine. A Censeniga c'è la valle del Biois che scende. Proprio prima di arrivare nel centro dell'abitato c'è una strettoia che ha creato svariati problemi a suo tempo e su quali si è intervenuti svariate volte proprio per evitare che si formi l'effetto o dica cosa che era successo nel 66 se non ricordo male. Lì doveva passare anche l'acquedotto che evidentemente si trova però in una zona a forte rischio. È stato cambiato il progetto? Allora, il grosso problema che ha reso urgente questo lavoro è il fatto che abbiamo perso praticamente l'acquedotto principale di Censeniga che è la Val d'Achioit. Quello di Val d'Achioit che da su serviva la vasca dei Coi che è appena sopra il centro di Censeniga. Quindi siamo sulla destra orografica del Biois. Esatto. Da anni, da decenni si ragionava su un acquedotto che portasse l'acqua da Canale d'Agordo a Censeniga e l'esubero che ha Canale d'Agordo a Censeniga perché comunque Censeniga aveva una carenza idrica dovuta a sorgenti poco consistenti. Sì, è paradossale questo, visto che siete un nodo idraulico di acqua non ve ne manca, ma... È tutta giù in fondo. Ecco, finalmente il BIM GSP era arrivato a una progettazione definitiva, era in fase di appalto e questo acquedotto era previsto lungo la pista ciclabile Canale Censeniga. Con l'alluvione dell'anno scorso la ciclabile è stata erosa in buona parte e quindi c'è stata l'urgenza, l'esigenza di modificare il progetto e di portarlo sulla strada della Valle dei Biosi. Un importo, un lavoro da 2 milioni e 400 mila euro. I lavori stanno procedendo velocemente e speriamo di poter avere i collegamenti entro, prima dell'inverno, altrimenti per Censeniga sarà un problema perché se già prima eravamo in carenza idrica, adesso mancando quella sorgente importante sarà probabile che ci possano essere problemi. Sì, poi paradossalmente che uno non ci pensa, l'inverno è una stagione siccitosa, nel senso che l'acqua non sgorga dalle montagne. Il periodo peggiore è febbraio perché ancora il disgello non è cominciato, sono già passati due o tre mesi di freddo, di gelo, quindi di solito i problemi noi a Censeniga li abbiamo a febbraio. Sì, perché uno non ci pensa, però rimane il problema delle frazioni alte. Sì, le frazioni alte, Martim, Bogo, Cavarzans, sono le prime che erano approvvigionate da questo acquedotto. Hanno patito tutta l'estate, quest'autunno, la mancanza d'acqua e anche la qualità non ottimale e proprio in questo periodo stiamo lavorando con il GSP che ha lavorato in modo veramente da complimenti insomma per quanto riguarda l'acquedotto di Valdebio e si adesso sta lavorando per risolvere questo problema e anche qua speriamo di trovare una soluzione tampone su cui stiamo già ragionando per passare l'inverno. Dopodiché penseremo a progettare l'opera definitiva. Ma questo acquedotto si è ostruito, si è infettato, quali sono le problematiche? La valle dove era posta la sorgente ha modificato completamente aspetto, le falde sotterranee si sono spostate, la vasca della presa è con il basamento per aria, con una voragine sotto, il luogo si raggiunge con delle piccole scalate e c'è una perizia del geologo che dice che lì le strutture non si possono più fare e che le persone non devono accedere a quei luoghi. A me mi pare che basti. È una situazione definitiva. Mi pare che basti. Senta, siamo nel mese di ottobre, sono iniziate le scuole ormai da più di un mese, voi avete un distretto importante, quali sono le novità di quest'anno? Ma allora noi abbiamo il nido consorziale, abbiamo l'asilo, abbiamo le elementari, abbiamo le medie, le medie eseguiamo ogni anno dei lavori, abbiamo sostituito a primavera una buona parte di seramenti, adesso stiamo procedendo a un progetto per la sostituzione dei seramenti che mancano e per la coibentazione con cappotto delle pareti all'edificio e sostituzione dell'impianto di riscaldamento con un nuovo impianto a biomassa. Visto che ce n'è. Sì, visto che ce n'è. E quindi stiamo investendo su questo edificio perché siamo convinti che sarà comunque sempre una scuola di riferimento quella di Cencini. Ma avete problemi di numeri oppure con un accordo con i vari altri comuni riuscite a tenere? Il comprensivo riguarda tutta la Valle del Biois e quindi il bilancio si fa su tutto il distretto. Abbiamo una carenza come è un po' per tutti gli altri istituti comprensivi che continuano a diminuire, ogni anno bisogna inventare qualcosa per tenere in piedi il tutto. Diciamo che i terminali sono censili da una parte e Falcade dall'altra. Falcade e Canale si sono suddivisi elementari e medie assieme a Vallada. Dall'altra parte c'è Alleghe, Caprile come punti di riferimento e sotto Agordo. Diciamo che è un po' distribuita così. Cencini che un po' in tutto gioca il ruolo di Cerniera dell'Agordino. Quindi comunque una zona comoda un po' per tutti. Credo che qui volete acquistare un pulmino, deve avere caratteristiche particolari perché adesso si fa attenzione se è il 4x4 oppure se è un pulmino normale. No, no, stiamo ricercando un pulmino 4x4 e c'è il problema un po' di tutti i mezzi, anche quando avevamo cercato l'unimo, lo sgombraneve, che sul mercato trovi solo mezzi grandi. Noi abbiamo bisogno di mezzi piccoli, perché le strade di montagna questo richiedono e non abbiamo un sovraffollamento di bambini e quindi stiamo ricercando un pulmino piccolo 4x4 da 9 posti. Beh, è curiosa questa cosa che non ci sia. Sono dei problemi che uno non riesce anche a immaginare, il mercato non offre questo. Lo stesso problema l'abbiamo avuto con l'unimo che chiaramente nelle strade strette, se è troppo grande, in curva, non riesce a passare e abbiamo dovuto ricercare anche là delle soluzioni. Io immagino qualcuno che viene da fuori della provincia di Belluno e non è avezzo a questo tipo di problematica, accende la televisione e dice ma dove vivono questi... Poi bisogna farle le strade e c'è della gente che vive in questi posti, ci vive bene, però deve affrontare queste problematiche che sono davvero curiose. E poi c'è, bisogna un omaggio agli alpini anche perché mi pare che anche lei fa parte della... Sì, sì, questi giorni hanno donato dei giochi all'asilo, loro sono sempre molto... Sono giochi all'aperto o giochi... All'aperto, all'aperto, quindi strutture all'aperto. Strutture all'aperto, all'esterno dell'asilo, gli alpini, con gli alpini c'è una continua collaborazione alpini e gruppo protezione civile, soprattutto nel... sia prima ma anche nel post-Vaia non ci fossero stati, avremmo avuto sicuramente molti più problemi, quindi gente disponibile che ha un cenno è subito presente, insomma. Che si sono identificate dentro l'Associazione Nazionale Alpini, ma diciamo che questo è un po' l'anima, lo spirito delle genti di montagna. Sì, sì, sì. Che poi abbiamo la fortuna di alimentare anche con questo spirito tipicamente alpino. Senta, lei prima accennava in modo, diciamo, non polemico perché non serve a niente la polemica, un po' ironico che non è solamente un nodo idraulico ma anche un nodo viario e quindi costringe a un super lavoro i vigili urbani perché c'è la confluenza dell'Alta Valle del Cordevole e della Valle del Biois, una strozzatura che si verifica solamente al ritorno. No, quest'estate abbiamo avuto il problema all'andata, a salire. M'ha preso a te. Sì, pochi giorni prima, la settimana di Ferragosto, tutta la settimana di Ferragosto abbiamo avuto problemi a salire, soprattutto i tre giorni prima di Ferragosto, ma abbiamo avuto alcune giornate anche di traffico intenso in tutte le direzioni, quindi con una grossa difficoltà a smaltire il traffico e con colonne che si sono create chiaramente perché la mole di traffico era troppo elevata comunque per le nostre zone. Qualsiasi tipo di viabilità non avrebbe comunque risolto il problema. E purtroppo è un problema che ha i suoi tempi ben scanditi, si racchiude sostanzialmente in due mesi d'estate e due mesi d'inverno. Sì, sì, l'inverno le colonne della domenica a scendere non ci sono quasi più, se non in casi particolari. È un po' d'estate, quei 10-15 giorni, diciamo che il turista è molto nervoso, non arriva in ferie preparato, quindi la colonna crea telefonate, crea insulti ai vigili. Senta, siccome la vita ci insegna che qualsiasi situazione di difficoltà presenta un lato positivo, bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, se uno in un certo momento si nervosisce e dice ma dai fermiamoci qua e prendiamo qualcosa. A questo corrisponde la verità, insomma c'è un contraccambio. Sì, Cencennighe in questi anni si è connotato per essere un luogo di servizi, diciamo, soprattutto per l'alto gordino turisticamente più avanzato. Abbiamo una vivacità commerciale che tanti ci invidiano e anche un numero di servizi a Cencennighe, 1.300 abitanti trovi un po' di tutto. Quindi questo passaggio, anche se disturba, anche se crea dei problemi, alla fine fa diventare Cencennighe un punto, insomma, dove le attività possono lavorare, progredire. Ci sono state nuove aperture in questi mesi passati e c'è un bel momento, una bella vivacità che insomma ci godiamo. E che voi alimentate anche con delle iniziative culturali. Sì, è una cosa che a me è sempre piaciuta, il No Filò. Il No Filò, ricordiamo per coloro che non sono del posto, è una grande sala dove si possono realizzare molte iniziative, dalle mostre ai concerti. Prego. Sì, quest'estate a luglio abbiamo, come altri anni, organizzato il Festival delle Fisarmoniche con la Rossini e quest'anno abbiamo poi ad agosto ospitato due mostre, mostre che hanno avuto successo. Per il prossimo anno abbiamo già delle nuove iniziative e lo dico qui, stiamo pensando in questi giorni, con la scadenza del quarantennale della costruzione del No Filò nel 2021, di raccogliere in una pubblicazione le cose più importanti che il No Filò ha ospitato. Già vedendo in questi primi giorni è una mole di attività veramente elevata, sia per le mostre, per le rassegne corali, per l'artigianato, per le presentazioni di libri, gli alpinisti, diciamo di tutto. Ora cercheremo di condensare in una pubblicazione l'importanza che ha avuto il No Filò in questi anni. Beh, ho venuto un po' il capo di questi due imbuti, quindi evidentemente uno dice faccio lì così raccolgo un grande pubblico. Abbiamo risolvito il tempo a nostra disposizione, siamo stati con il sindaco di Cencennighe a Gordino, Mauro Saperse, che ringrazio per la disponibilità. Buon lavoro lei sindaco. Grazie, grazie. Grazie a voi per averci seguito e come sempre buona serata.